Il professor Charlie B.E., presidente del Dipartimento di Chimica e di Biologia Chimica all'Università di Harvard, è stato arrestato il 28 gennaio scorso dall'FBI. Avrebbe mentito sulla sua partecipazione al piano dei mille talenti in Cina. Il professore, uno dei più brillanti al Harvard, avrebbe intascato un milione e mezzo di dollari dai cinesi per creare una ricerca sulle nanotecnologie in un laboratorio nell'Università di Wuhan. Oltre al professor Lieber, sono stati presi anche due ricercatori cinesi, Zheng Zhao Song, 30 anni. Il ricercatore oncologico affiliato da Harvard è stato sorpreso all'aeroporto di Boston con 21 flaconi di campioni materiali biologici. È accusato di contrabbando di materiali sensibili degli Stati Uniti e di dichiarazioni false. L'altra, Ye Yang King, 29 anni, attualmente in Cina, ha lavorato alla Boston University, tra l'altro nei dipartimenti di ingegneria biomedica, e si è scoperto essere un ufficiale militare dell'esercito popolare cinese. L'inchiesta dell'FBI sembrerebbe promossa dal governo americano per contrastare tanto lo spionaggio industriale quanto quello militare. Come si vede da questa operazione, l'area di interesse rilevante sarebbe proprio quella del movimento di informazioni sulle ricerche biologiche e virologiche, cioè materia delicatissima sia dal punto di vista economico, della proprietà intellettuale, ma anche degli usi tra le grandi potenze in competizione. L'avvertimento implicito in questa notizia dice che in queste situazioni errori, interessi, supremazia possono creare gravi problemi mondiali, per esempio una pandemia. Hong Kong impone la quarantena a tutte le persone in arrivo dalla Cina. Due le navi da crociera bloccate a largo con il virus a bordo, una in Giappone con 10 infetti e l'altra Hong Kong con 3 infetti. In Thailandia e a Singapore, prima ipotesi di focolai indipendenti dopo il contagio cinese e in Corea del Sud la casa automobilistica Hyundai sospende la produzione. A Macao, il più grande hub mondiale per il gioco d'azzardo, da domani tutti i casino chiuderanno per 15 giorni. Non era mai accaduto, né prima del passaggio alla Cina né dopo. Così la Cina dovrà subire un altro colpo economico dopo la frenata imposta dalle manifestazioni di Hong Kong. L'industria delle scommesse di Macao è una miniera d'oro. E chiude. Il coronavirus sarà battuto dall'intelligenza artificiale? Per la prima volta un'epidemia sarà bloccata dal figlio più moderno della tecnologia? Non esageriamo. Virologi, biologi, epidemiologi restano ai loro posti. Ma l'intelligenza artificiale, o quella cosa che così viene chiamata, è già dovunque. Per calcolare, monitorare, distribuire, curare, parare gli effetti, impedire, la diffusione, organizzare la difesa, controllare i movimenti. E il mondo conosce una megalopoli Wuhan, fino a ieri sconosciuta in più, che è il cuore dell'economia cinese. L'anno scorso il suo PIL era in crescita del 7,8% contro la media nazionale del 6,1%. Quasi 11 milioni di persone. Dove sono rappresentate circa 300 delle prime 500 aziende del mondo. Si capisce meglio da queste cifre la portata al significato delle drastiche decisioni del governo cinese, fino a quella di chiudere tutte le scuole e trasferire l'insegnamento interamente sulla rete. Ma appaiono strumenti prima impensabili, come i droni che comunicano con la gente attraverso altoparlanti mobili, informano, danno ordini. Nell'ospedale di Guangdong sono arrivati Pingping e An-An, la prima coppia di droidi autodisinfettanti. Robot, che oltre a essere a guida autonoma e a ricarica autonoma, sostituiscono i medici e riducono i rischi di infezione da prossimità con i malati e gli infetti. Aprono e chiudono le porte, trasportano medicine, controllano i database dei pazienti, filmano e registrano le degenze, trasmettono i dati. Il quadro dell'evoluzione epidemica sarà dunque disegnato di minuto in minuto. Tutto questo avviene per la prima volta e speriamo tutti che basti a fermare il disastro. Con un giorno di ritardo, dopo che i voti sono stati riconteggiati a mano a causa di un guasto tecnico nel sistema automatico, arrivano i risultati della prima votazione per le primarie dei DEM, quella dello Stato di Iowa. Bernie Sanders e l'outsider Pete Buttigieg sembrano appaiati e non emerge nessun chiaro vincitore. Però emergono già degli sconfitti, uno su tutti Joe Biden, piazzatosi quarto e ben distaccato dai due in cima. Bloomberg non compare ma per sua scelta, salta i primi turni per tentare il colpo durante il super martedì del 3 marzo, quando voteranno agli stati più grandi e dove la scorpacciata di delegati è più invitante. Elizabeth Warren, l'unica donna tra i candidati che possono sperare, finisce terza, comunque davanti a Joe Biden. La sua corsa non è ancora terminata, anche se sarà molto difficile. Stando così le cose, Sanders rimane il favorito, ma i boss del Partito Democratico sbarreranno la strada con tutti i mezzi. Infatti è giudizio comune che Sanders potrebbe ottenere la nomination, ma non potrà mai battere Trump. Troppo socialista in un paese che ha orrore perfino di quella parola. Figuriamoci degli annessi e connessi. La corte britannica ha fissato il calendario delle udienze per l'estradizione di Julian Assange. La prima sarà il 25 febbraio. Respinte le istanze degli avvocati difensori che avevano chiesto maggior tempo per esaminare gli atti. Evidentemente Londra vuole liberarsi dal problema Assange e si propone di scaricare il barile su Washington. Al prezzo della vita del presunto imputato, già in condizioni psicofisiche molto precarie. E quanto ha accertato e reso noto il relatore speciale dell'ONU Nils Melzer, che lo scorso 31 gennaio ha riassunto in un articolo del giornale svizzero Republic la situazione in questo modo. Davanti ai nostri occhi è stato messo in atto un sistema omicida. Va tenuto conto che la richiesta americana di estradizione di Assange è stata presentata anche in base all'Espionage Act del 1917 e che secondo Wikileaks la legge americana considera i cittadini stranieri non beneficiari della protezione prevista dal primo emendamento della Costituzione. Si estende e prende forza alla campagna per impedire una decisione che avrebbe gravi implicazioni politiche, giuridiche e umane. Perfino l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione lo scorso 28 gennaio, la numero 2317, in cui stigmatizza le minacce alla libertà di informazione e alla sicurezza dei giornalisti. Tra i presenti ad una manifestazione contro l'estradizione davanti al carcere di Belmarsh era presente anche l'ex sindaco di Londra, Ken Limiston, e il giornalista John Pilberg. Putin chiama Erdogan per chiarire reciproci impegni. Nella telefonata di martedì scorso fra i due presidenti, Putin ha chiesto a Erdogan di impegnarsi a non favorire i movimenti dei gruppi terroristi legati ai servizi segreti occidentali. E Erdogan, secondo fonti affidabili, avrebbe detto di non voler compromettere le buone relazioni con la Russia per la disputa sul confine siriano. Schermaglia tutta da risolvere, ma non è la peggiore. In territorio siriano si registra una intensificazione delle attività dei tagliagole islamisti, palesemente coordinata dai servizi anglo-americani e israeliani. L'esercito russo, che continua a presidiare il terreno siriano, d'accordo con Damasco, informa che gli elmetti bianchi hanno terminato di girare un filmato fake a Gerba, zona della provincia di Idlib ancora controllata dai terroristi di Al-Nusra, guidati da Al-Giulani. Fra poco vedremo dunque apparire sui social americani e sui giornali e TV mainstream il prodotto della loro propaganda. Ma l'azione americana è anche direttamente militare. Nella provincia di Hasakah i soldati statunitensi sono intervenuti a terra per ostacolare una pattuglia della polizia militare russa. Nelle stesse ore un drone statutintense ha distrutto un impianto di raffinazione siriana e altri due droni sono stati abbattuti mentre sorvolavano la base aerea russa di Kamaimim. Più in alto un Boeing P-8 Poseidon guidava le manovre e si è poi allontanato. Tutti preparativi di guerra. Trump ha deciso il ritiro, qualcun altro al Pentagono o a Langley ha deciso il contrario. a